Ciao cari amici, continua il bombardamento delle forze armate russe contro il territorio ucraino, a quanto pare dopo recenti potentissimi bombardamenti che si sono registrati sul territorio dell'Ucraina, dei quali vi ho parlato già nei video precedenti, si è trattato di più pesante bombardamento della storia dell'operazione militare speciale che è avvenuto diversi giorni fa, voi ricordate i russi hanno colpito diversi obiettivi militari, i russi hanno bombardato tantissimi obiettivi di energia critica sul territorio dell'Ucraina, sono stati distrutti i sistemi di antiaerea, sono stati colpiti lì aeroporti, quel giorno è stato distrutto anche un aereo statunitense F-16 che è stato trasportato sul territorio dell'Ucraina per combattere sul territorio dell'Ucraina con pilota ucraino e poi giorno dopo è stato abbattuto un altro aereo però in questo si sono contraddistinti le forze di antiaerea Ucraina, hanno colpito l'aereo con un missile statunitense Patriot e questo poi ha suscitato anche se voi ricordate tanto scandalo, tante polemiche e alla fine Zelensky ha anche licenziato il capo delle forze aeree ucraine. Poi dopo qualche giorno i russi hanno ripetuto il bombardamento pesantissimo del quale vi ho raccontato, sono stati colpiti anche questa volta i luoghi di concentrazione del personale militare, quindi i russi non solo hanno raggiunto con i loro missili gli obiettivi di energia critica oppure i snodi ferroviari, hanno anche colpito i ponti, vi ho anche sul mio canale privato Telegram condiviso con quelli che sono abbonati al mio canale, ho condiviso i video della distruzione dei ponti che Logistica Ucraina utilizzava per migliorare i percorsi verso il fronte. Poi i russi hanno bombardato i luoghi di concentrazione dei militari, diversi punti di comando delle unità militari composte da mercenari, di questo vi ho raccontato in alcuni video precedenti e inoltre i russi hanno utilizzato nuovi missili ibridi, vi ho raccontato di questo, missili Grom E1, questi missili sono una via di mezzo tra bombe plananti e missili da crociera, sono di piccola dimensione, abbastanza ridotte rispetto a soliti missili di crociera e volano fino a raggiungere la distanza di circa 150 km, la loro gettata utile, sono praticamente impossibili da abbattere perché non è possibile intercettare nel volo, in quanto la gran parte, la maggior parte della distanza percorsa, loro percorrono senza nessun tipo di propulsione, loro semplicemente volano planando e poi il motore reattivo, motore che fa parte di uno dei stadi del volo missilistico, viene acceso quando il missile precipita sul obiettivo, in questo modo al missile viene data una potente forza cinetica che raddoppia il potere dell'esplosivo all'impatto, così ad esempio se un missile ha 300 kg dell'esplosivo, in questo caso è così perché il missile GROM-1 ha come quantità utile di esplosivo 315 kg, con aumento della velocità durante la fase di avvicinamento al bersaglio, questo missile viene accelerato accelerato a tale velocità che il suo impatto crea una forza cinetica che raddoppia il potere dell'esplosione, quindi quando questo missile precipita su un obiettivo è come se esplodessero non 315 kg ma 630 kg dell'esplosivo e questo noi abbiamo visto perché con solo due di questi missili i russi hanno demolito il centro di addestramento dei militari nella regione di Sume dove sono stati uccisi circa 300 militari all'interno della struttura dove loro venivano addestrati anche dai militari della Nato, tra l'altro cari amici già sono iniziati a parire le notizie della morte dei specialisti della Nato, così ad esempio ieri è stato emesso una notizia in maniera molto attenta, lo hanno fatto però non potevano non farlo perché uno dei militari uccisi è un colonnello effettivo delle forze armate statunitense, quindi non si tratta di un mercenario che si è licenziato dell'esercito statunitense, poi per motivi personali si è iscritto da qualche parte, no cari amici, colonnello effettivo in carica dell'esercito statunitense, improvvisamente morto per qualche morte strana sul territorio della Polonia, cioè si trovava in Polonia, ha mangiato Polonio, non lo so cosa le è successo, morto e a quanto pare invece si tratta di uno degli istruttori che insegnava ai militari ucraini le tattiche dell'utilizzo dei sistemi missilistici che Stati Uniti d'America fornisce all'Ucraina, sistemi come HIMARS, voi sapete che HIMARS è un sistema di lancio multiplo dei razzi e dei missili che viene fornito dagli Stati Uniti all'Ucraina. Il grande problema dell'utilizzo di questo sistema è che gli ucraini non sanno come lavorare con questo sistema. Loro, diciamo, in principio conoscono sistemi sovietici, non conoscono i sistemi moderni, come ad esempio moderni Grad, moderni sistemi russi come Uragan, oppure moderni sistemi russi come TOS, tutti i sistemi di TOS con razzi termobarici. loro queste cose le devono imparare perché nel loro paese la civiltà si è fermata al livello dell'Unione Sovietica. Nel 1991, quando l'Ucraina si è staccata dall'Unione Sovietica e ha intrapreso la sua vita separata, la civiltà, lo sviluppo e anche il progresso tecnico-economico si è fermato a quel livello lì. Dopo c'è stato solo il degrado. L'unica cosa che gli ucraini sono riusciti a fare è svendere quelli che sono stati i sistemi militari che li sono rimasti dall'Unione Sovietica. Loro li hanno venduti felicemente per tutti questi anni in tutto il mondo, molto in Africa, molto in America Latina e in paesi anche del Medio Oriente. E poi quando si sono trovati a trasformarsi nell'arma del mondo occidentale contro la Russia e si è scoperto che magazzini che le occidentali credevano che gli ucraini tenevano pronti per la guerra, sono rimasti vuoti e quindi in questi magazzini non c'è niente. Per questo motivo adesso bisogna rifornirli, ma rifornirli è impossibile con le armi sovietiche perché ormai queste sono perse, bisogna rifornirli con le armi della Nato, ma armi della Nato nessuno sa usare in Ucraina. Quindi un sistema HIMARS chi lo ha mai visto, chi ha mai imparato di usare e cari amici non è una fionda, non è un fucile d'assalto e si tratta dei sistemi complessi, sono sistemi che hanno il principio di funzionamento anche un po' diverso da quello dei sistemi sovietici e per questo motivo hanno bisogno della gente preparata. Per questo motivo inizialmente Stati Uniti d'America hanno mandato lì i loro mercenari, i loro militari sotto le mentite spoglie di volontari, di consiglieri militari, di addestratori, hanno inventato una marea di scuse pur di mandare lì personale militare statunitense che in realtà gestiva questi sistemi per gli interessi degli ucraini per ammazzare i russi, soprattutto per tra l'altro massacrare la popolazione civile perché se voi guardate tutte le notizie dei bombardamenti con sistemi HIMARS, la gran parte di questi sistemi sono stati usati per le operazioni terroristiche sul territorio del Donbass, della regione di Belgorod e adesso anche nella regione di Kursk contro i civili. In questo modo anche si può dire che gli ucraini imparavano, imparano a usare questi sistemi, imparano sui civili, sulle persone innocenti, questo è una cosa tremenda. Adesso gli americani hanno trasferito i loro consiglieri, in questo caso c'era anche questo colonnello statunitense che era a capo di un gruppo di addestratori che all'interno dell'università governativa di Sume, trasformata in un vero e proprio centro di addestramento militare, perché come sapete benissimo adesso UcroReich, cioè l'Ucraina una volta diciamo civile adesso si è trasformato semplicemente di un campo di prigionia, di un campo di sterminio della popolazione negli interessi della Nato, viene cancellata qualsiasi struttura civile tranquillamente per la volontà del presidente ucraino Zelensky e viene trasformata in qualcosa di militare, così molti alberghi ad esempio sono trasformati nelle caserme dei militari, molti scuole, molti asili diventano caserme o centri di comando militari e così anche le università diventano certi centri di addestramento dell'esercito. Anche questa università è stata colpita, lì è morto questo colonnello statunitense, ovviamente non possono dire che è morto lì, hanno inventato la storia che le è successo qualcosa in Polonia. Ovviamente l'ennesima conferma che il bombardamento russo ha raggiunto un ottimo risultato e sono stati utilizzati soltanto due missili Grom e uno. Le devastazioni sono enormi, ho pubblicato video, ho pubblicato anche alcune testimonianze dei volontari, tutto questo c'è sul mio canale privato Telegram, lo troverete, raccontano di cose impressionanti e questo è successo il giorno dopo del colpo che i russi hanno effettuato contro il centro di addestramento dei servizi segreti militari ucraini nella città di Paltava, dove adesso ormai si parla di più di 600 vittime, dove i russi hanno creato una devastazione totale utilizzando due missili Iskander-M. Anche lì c'è una trattata, tragedia che si è creata attorno a questa cosa perché gli ucraini hanno scoperto che non sono pronti per affrontare bombardamenti di questo genere, non hanno funzionato bene i servizi di pronto soccorso, mancavano medici, mancavano tutto, mancava sangue, molti militari ucraini feriti sono morti proprio perché non sono stati soccorsi nei primi 30 minuti dopo il colpo, quindi sono rimasti lì sull'asfalto per 30 minuti a perdere sangue senza neanche avere qualcuno che li potesse in maniera professionale dare primo soccorso, stringere con l'acimo statico la gamba o il braccio tranciati dalle schegge da dove usciva sangue, quindi la gran parte dei morti sono stati uccisi non durante l'impatto, durante l'impatto precisamente parlano di 150 morti, quindi 150 persone sono morti subito. Poi tutto il resto, sono più di 600, sono morti dopo perché non hanno avuto il soccorso medico immediato, quindi nessuno li ha preparato neanche per primo soccorso medico perché la preparazione per primo soccorso medico è molto importante. Prima cosa è mettere l'acimo emostatico, cioè fermare l'emorragia, questa cosa militare in prima linea lo sanno che cos'è, quanto importante, in primo minuto subito dopo aver subito il colpo, se si vede che sta uscendo sangue dall'arteria, sangue ha diverso colore, ha diverso flusso, questo è molto facile a vedere, non è un sangue che esce da una ferita da taglio, è un sangue che ha una diversa consistenza, subito si blocca l'arteria, cioè si prende un laccio emostatico e si chiude. Questo non è stato fatto e di questo parlano diversi testimoni, diversi volontari ucraini, io ho pubblicato due testimoni di questi, una ragazza che è un'infermiera e un uomo che è trasportatore e infermiere, lui trasportava con la macchina ed è anche abilitato per fare infermiere, entrambi affermano che più militari sono morti per colpa dell'incapacità del sistema ucraina di soccorrere i feriti di questo tipo di quanto sono morti per l'impatto del missile e questa è la realtà dell'Ucraina di oggi. Comunque i russi dopo questi bombardamenti anche stanotte hanno effettuato un bombardamento pesante e missileistico contro le aree in cui era concentrato il personale ucraino nelle regioni di Poltava e Kharkov. Nella regione di Sume è stato distrutto un punto di accoglienza dei militari e dei mercenari ucraini arrivati dal territorio della regione di Kursk nell'ambito di una rotazione, cioè praticamente quelle che si trovavano a Kursk le hanno ritirati da Kursk, loro posto hanno occupato nuovi militari che sono stati portati nella regione di Kursk per via di una rotazione e quelle che dovevano stare lì, riposare, prendere un po' di tempo per tranquillizzarsi e trovare le nuove forze per ritornare in guerra, sono stati distrutti uccisi dal bombardamento missileistico russo di stanotte. Ma non solo missili hanno colpito Ucraina stanotte, hanno lavorato anche droni Geran 2 contro diverse strutture, una di queste cari amici è stata una vera devastazione, io ho pubblicato le foto, le foto arrivano tra l'altro dal sito ufficiale del servizio di situazioni d'emergenza ucraini, quindi è una cosa completamente confermata dalle autorità ucraine, non si tratta di propaganda russa, tutto quello che ho condiviso anche sul mio canale Telegram, queste fotografie, tutto confermato dalle autorità ucraine, si tratta un colpo durissimo contro uno dei più importanti centri logistici che si trova nella regione di Lvov, i russi hanno lanciato lì i nuovi droni Geran 2, sono droni a propulsione, voi sapete che Geran 2 è un drone che come forma alare somiglia un triangolo, ha una testata che porta un carico utile di esplosivo a frammentazione oppure può essere testata termobarica che ha un enorme potere incendiario e poi può essere anche una testata vuota senza esplosivo però lì dentro viene aggiunto il carburante, si crea un serbatoio e allora questi droni vengono utilizzati come esche, girano nell'aria semplicemente sopra le zone dove ci sono i radar e mettono in difficoltà sistema di intercettazione antiaerea ucraina e in questo caso sono stati lanciati diversi droni, ci sono stati droni che mettevano in difficoltà appunto il sistema di radiolocazione antiaerea, ci sono stati droni con motore a scoppio che portavano cariche a frammentazione e poi ci sono stati questi droni a propulsione reattiva che avevano testate termobariche che portavano un enorme danno incendiario alle strutture che hanno colpito. Tutti questi droni sono stati lanciati contro questa struttura di Leopoli che si trova nella periferia della città, non si trova nel centro di Leopoli, si trova nella periferia, se voi guardate le mappe c'è una zona che si chiama Malehav e questa zona c'è un grande magazzino, è proprio una serie di magazzini, si vede anche dallo spazio, sulle fotografie satellitari si vede molto bene questo complesso dei magazzini. Lui si trova molto vicino alla stazione ferroviaria Dubljane-Lwovski. Dubljane-Lwovski è un importante snodo ferroviario, cari amici, perché questa ferrovia viene utilizzata maggiormente per trasporto di tutto il materiale bellico della NATO che arriva sul territorio dell'Ucraina dalla Polonia. Voi sapete che in Polonia trasferimenti da parte della NATO avvengono per via di ferrovia, per via, diciamo, alcuni mezzi speciali vengono trasferiti con le automobili, con le auto, però sono pochi in realtà. Autotrasporti non fanno neanche 20% di tutto il volume di ciò che viene trasportato. La gran parte di trasporti arrivano per via ferroviaria e poi ci sono trasporti aerei, anche con gli aerei, dalle basi lontani, soprattutto dalle basi che si trovano in Inghilterra e anche dalle Stati Uniti d'America, oppure delle basi statunitensi lontani che si trovano sul territorio dell'Europa, come ad esempio le basi in Spagna oppure le basi in Italia. Per trasferire le attrezzature e alcuni mezzi si usano gli aerei, non usano i treni. Comunque tutto arriva a Rzeszow, la città di Polonia, dove c'è un grande punto di smestamento di questa merce. Tra l'altro Rzeszow è una città che rischia molto durante l'inizio di un probabile conflitto tra la Russia e la NATO, una delle prime città che sarà sicuramente rasa al suolo utilizzando le armi nucleare e tattiche, i missili da crociera, sarà Rzeszow, perché Rzeszow è un punto di ricevimento di tutti i mezzi e attrezzature militari dalla NATO sul territorio della Polonia. E poi da lì questi mezzi vengono messi nei pacchetti di fornimento, quindi ogni treno che va verso l'Ucraina viene preparato in base a missioni che la NATO sta dando all'esercito ucraino, quindi non è che in Ucraina trasferiscono tutto quello che la NATO le sta dando. Voi sapete che gli ucraini sono molto famosi per rubare e vendere la merce, questo gli americani hanno scoperto, per un po' di tempo hanno cercato di capire come fare per evitare che gli ucraini rubino tutto quello che gli viene fornito, hanno deciso quando diamo qualcosa all'Ucraina non le trasferiamo subito in Ucraina perché questi ladri bugiardi nazisti ruberanno la nostra merce e poi dopo prenderanno soldi e se ne vanno a godere la loro vita, ubriacarsi, andare delle prostitute, drogarsi, fanno quello che sanno fare meglio sul territorio tra l'altro dell'Unione Europea. Per evitare che questo avvenga noi dobbiamo dare a loro gli aiuti con delle porzioni precise. Quindi gli americani e gli inglesi hanno deciso di, come si dice, razionare la logistica. La logistica razionata, cari amici, ha, diciamo, una parte positiva e una parte negativa. La parte positiva della logistica razionata è che in effetti si permette di salvare molti mezzi, munizioni e così via. La parte negativa della logistica razionata è che è molto lunga e nel caso di problemi in prima linea ci mette molto tempo per risolvere questi problemi con l'aggiornamento dell'attrezzatura militare, delle munizioni e così via perché ci vuole tempo per portare nuova razione attraverso tutta una serie di percorsi logistici. Russi questa cosa la sanno benissimo, non sono dei cretini, la sanno calcolare, la sanno diciamo prevedere quando un settore di fronte sta crollando. È chiaro che adesso deve arrivare l'ennesima razione degli aiuti. Adesso noi vediamo crollo dei settori dei fronte nella direzione di Pakrovsk, di Tarjevsk, che i russi chiamano Zerzhensk. Hanno una serie di situazioni nella regione di Kursk dove in pratica ormai sono stati demoliti praticamente tutti i militari che hanno partecipato alla prima ondata dell'invasione della regione di Kursk. Quindi gli ucraini hanno perso la totale metà di forze che sono stati destinati a questa operazione di pubblicità per Zelensky che all'esercito ucraino ha costato già più di 10.000 uomini. Stamattina ho verificato il riassunto giornaliero del Ministero della Difesa, hanno già superato 10.000 persone uccise dell'esercito ucraino sul territorio della Federazione Russa. È chiaro che hanno bisogno di nuovi mezzi, di nuove munizioni per artilleria, nuove armi, nuove attrezzature, nuovi mezzi di comunicazione perché loro perdono tutto. Quando, cari amici, io vi racconto che i russi hanno distrutto un tot di mezzi militari, voi dovete capire che dentro un blendato, quando i russi uccidono una squadra di sabotaggio o di incursione ucraina, ammazzano militari fisicamente, questa è una grave perdita, sono persi, non so, 20 militari di solito, una squadra, due squadre sono 20 militari. Loro agiscono in due o tre macchine, una macchina sono circa 10 persone, se calcolare anche l'autista, inserviente e metragliatore, sono tre persone per macchina e poi c'è squadra di 7 persone, quindi 10 persone e una macchina, tre macchine sono 30 persone, due macchine sono 20 persone. Quando io vi racconto e vi faccio vedere anche sul mio canale privato Telegram che i russi hanno distrutto una macchina, un'automobile con ucraini dentro, questo non è solo perdita degli uomini o di un mezzo, questo vuol dire che hanno perso munizioni, mezzi di comunicazione, hanno perso le attrezzature, perché ogni macchina fornita da attrezzature, visione notturna, altri tipi di attrezzature, sistemi leggeri di artilleria, come ad esempio i sistemi di mortai da 85 mm, ogni macchina ce ha sistemi portatili anche antiaerei, ci sono missili manpads statunitensi, tra l'altro vengono forniti all'Ucraina in grande quantità, questi sistemi vengono persi perché i russi o li distruggono dentro l'automobile o catturano l'automobile con questa roba dentro e poi la usano contro gli ucraini, quindi queste cose devono essere riforniti, per questo motivo i russi sanno benissimo, appena si mettono male la situazione in prima linea deve arrivare l'ennesima porzione dalla Polonia, cosa hanno fatto i russi? Hanno aspettato che dalla Polonia arrivasse un treno, questo treno si è fermato nella stazione ferroviaria Dubliana-Lwowska, ieri, è stato scaricato questo materiale e portato in questo centro magazzino di Malehav che si trova vicino alla stazione ferroviaria Dubliana-Lwowska, c'è enorme terminale di container, magazzini, mezzi di trasporto, c'è una, a parte una strada, una ferrovia che porta solo lì proprio per scaricare e così via, russi hanno bombardato, hanno distrutto tutto, cari amici, tutto, non è rimasto neanche un pezzo del terreno dove non c'è fuoco, dove non c'è qualcosa di distrutto di bruciato. In pratica bombardamento di questo particolare territorio, di questo pezzo di territorio è iniziato alle 3 di notte, non si sa quanti droni sono precipitati perché in certo punto gli ucraini non sono riusciti più a calcolarli, perché il rumore dei droni in avvicinamento era superato dal rumore dell'attrezzatura e dei mezzi che erano in detonazione. La detonazione secondaria, cioè non detonazione degli obiettivi che cadevano, precipitavano sulla zona, ma detonazione che creava l'esplosivo degli obiettivi, si chiama detonazione secondaria quando esplodono le attrezzature, le armi, le munizioni che si trovano nella zona colpita, questa detonazione è che era amici durata fino alle 7 del mattino, cioè fino alle 7 del mattino a questo luogo nessuno riusciva ad avvicinarsi perché lì era un inferno. Sono arrivati i vigili di fuoco, sono arrivati le squadre di soccorso, hanno iniziato a spegnere l'incendio nel parco delle automobili che si trovava vicino perché lì c'erano solo le auto per trasporto dei merci e queste auto sono stati tutti distrutti, però siccome all'interno di queste auto non c'erano i mezzi da guerra, si poteva mandare lì i vigili di fuoco a spegnere questo fuoco perché non c'era rischio che saltano per aria a causa di esplosione delle munizioni. Nelle altre zone quando iniziano le esplosioni secondarie per la prassi i vigili non possono lavorare perché possono essere uccisi dalla detonazione secondaria. Comunque alle 7 del mattino finita questa cosa, questo cari amici è stato uno dei più risultativi colpi contro il sistema di logistica ucraino negli ultimi tempi, è stato completamente distrutto questo magazzino, enorme quantità del materiale militare, mezzi militari, attrezzature fornite dalla Nato, è stato distrutto, bruciato questa notte, quindi questa è sicuramente una situazione molto grave per gli ucraini che si trovano in prima linea, perché quelli che adesso aspettano l'arrivo di aiuti da parte della Nato non riceveranno niente, la Nato dovrà riconsegnare, diciamo preparare un altro treno, un altro carico di aiuti, ma il problema è che non possono più mandarlo in questa stazione perché tutto è stato devastato, devono scegliere altri passaggi, altre vie, devono scegliere, trovare altre soluzioni, per questo ci vuole tempo e tempo quelli che hanno in prima linea non ce l'hanno perché i russi li prendono veramente a calce nel di dietro, ogni giorno liberano sempre più territori, ogni giorno prendono sempre più posizioni dagli ucraini e questi non riescono più a stabilire almeno una linea difensiva, questi sono in rotta, corrono, vanno via e sempre più vicini i russi a Pakrovsk, sempre più vicini a Tarjevsk, sempre più vicino il crollo di questi importanti snodi di logistica sul territorio del Donbass, questa in grande linea cari amici è la situazione con bombardamento di stanotte che hanno effettuato i russi contro l'esercito ucraino. Vi ringrazio per la vostra attenzione, come sempre alla fine dei miei video vi invito di informarvi in modo corretto sul mio canale privato Telegram, io pubblico di solito tutto quello che viene censurato, nascosto, strumentalizzato del nostro mainstream, il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video, se volete invece seguirmi qua su YouTube come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici, vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti, io sono molto grato per la vostra presenza perché questo è molto importante per me, per la mia attività su questa piattaforma online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.